Un momento Un momento Un momento Continuiamo ora con questo camion Che sta transitando Sulla costa nostra A seguire quel camion Sta transitando Un camion Sulla costa nostra Quando transitava questo camion Hanno transitato questi due camion A seguire pure di quei due camion Sta transitando un altro camion Questa è la grigliata mista di verdura Di nonno Raulo Nonno Raulo è vegetariano Nonno Raulo Non è vecchio Ma ha 52 anni Io ho 52 anni Ma pensate che io Havessi 80 anni O nonno 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 Sto transitando questo camion A seguire quel camion Sta transitando quel camion In fondo A seguire inoltre Sta transitando Questo è un altro articolato E quest'ultimo Sulla corsia Sulla corsia Sulla corsia Stanno transitando in tutto Tre camion Due camion Si sono appena aggiunti In questo preciso momento Io sono Come ho già detto prima Vegetariano Sulla corsia Un momento Ecco qui Questo è un altro articolato Che sta transitando Sulla corsia Sotto Ora vediamo Un camion Con rimorchio Transitare Sulla corsia A nord Due camion piccoli Stanno transitando In direzione a nord In direzione a sud In direzione a sud A seguire C'è un altro camion piccolo Sempre in direzione a sud O Invece C'è un altro articolato Che vedete In questo preciso momento Sulla corsia Nord Che vedete Che vedete Che vedete Adesso Adesso Sta transitando Un camion Che porta Nelle cassette Sulla corsia A sud C'è un altro articolato Sul E quest'altro articolato In entrambe le due direzioni A seguire di quel camion Che ha transitato Sulla corsia Che a nord C'è questo camion Sempre in direzione a nord Ovviamente Momento pubblicità Stanno transitando Poca squadra Di camion Uno Due Ma non è finita qui Non è finita qui Aspettate Ma non è finita qui No A seguire Di quel camion Che ha transitato Sulla c'è un'altra squadra Di camion In tutto Cinque camion Momento 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 E il camion Stanno transitando Ora Sulla corsia Sud O in direzione a sud Bene Detto questo Signore e signori Auguro a tutti quanti voi Un buon sereno a Francia E ci rivedremo O più tardi Oppure domani Danno l'orao Un abbraccio Ahahahah Eh Ahahahah Ahahahah Ahahaha Ah Vol Aqua Grazie a tutti.